siamo a due giorni da juventus inter e tocca parlare di deferimenti illeciti tribunali no illeciti no tribunali e quant'altro insomma vabbè dai allora sgombriamo il campo dei dubbi come avrete anche già letto e le motivazioni mi sembrano abbastanza chiare non ci sarà nessuna ripercussione per lo meno non ci sarà nessun 3 a 0 tavolino per la juventus nella partita contro napoli perché la juventus tra l'altro non ha presentato ricorso che avrebbe bloccato eventualmente l'omologazione del risultato quindi la juve non ha presentato ricorso mi sembra che si sia trattato di un comportamento volto a ribadire il concetto che è il campo che conta che è il campo che conta ok quindi la partita è stata omologata ci saranno probabilmente delle ammende per il napoli per dell'aurentis non lo so non c'è in questo momento siccome l'aspetto che voi volevate che fosse focalizzato era questo la juve non ha presentato ricorso non è stato fatto nulla e quindi il risultato è stato tranquillamente omologato ok 1 a 1 così è finita la juve deve rammaricarsi di aver fatto 1 a 1 in casa con napoli tra l'altro mi ricordo non fu una partita particolarmente esaltante diciamo così no l'1 a 1 fu più o meno a specchio della partita casomai deve fare la mia culpa per non averla aver battuto il napoli in casa il 6 gennaio l'illecito amministrativo il falso in bilancio eccetera eccetera articolo 31 comma 1 non c'è la finalità delle più nelle plusvalenze di arrivare all'iscrizione del campionato quindi non che in questo caso non ci sarà nessuna sanzione o ripercussione sul campo sul risultato del campo un'ammenda è un illecito amministrativo c'è il falso in bilancio ammenda ammenda o eventualmente squalifico inibizione per i dirigenti questo riguarda tutte le squadre serie a mentre per alcune squadre serie b è stato chiesto l'articolo non mi ricordo se è il 6 31 comma 6 in questi casi ci serve da verificare appunto un tentativo di diciamo così eludere la norma che ti impedisce di iscriverti al campionato allora in questo caso le sanzioni possono essere più grandi ma riguardano le squadre di serie b e c perché c'è il nord del pescara che inci quindi questo è quanto ho letto questo è quanto è stato riportato quindi giusto per sgombrare il campo dei dubbi così come il napoli non perderà 3 a 0 tavolino la juventus non verrà riprocessa nell'interregionale per il discorso del plusvalenza perché le proporzioni più o meno sono queste nel sentimento popolare no se il napoli prende 3 a 0 tavolino l'juventus deve andare nell'interregionale per le plusvalenze o scomparire anzi facciamo prima radiamola dal calcio radiamola dal calcio no tanto facciamo prima così non ci si toglie tutti i pensieri no basta ma sì radiata dal calcio dai vabbè dai chiudiamo l'argomento e qui c'è un dibala sì dibala no dibala c'è dibala non c'è dibala non ci sarà l'anno prossimo e su questo siamo tutti d'accordo ma dibala c'è dibala non c'è alcuni dicono che ci sarà altri dicono che non ci sarà ragazzi bisogna aspettare domani quando allegri non ci dirà se c'è o non c'è magari non ce lo dice ragazzi non ce lo bisogna fidarsi degli spifferini che usciranno domani dall'allenamento dai muri della continassa è vero che ha provato sia la formazione con dibala sia senza dibala i primi spifferini sono usciti perché giustamente sta valutando tutte le opzioni per esempio se leggete su one food botta tachinardi ha dato una lettura interessante parlando di un possibile 352 della juve alcuni danno dibala addirittura c'è un'ipotesi di un dibala con vlaovic con morata in panchina non lo so non lo so sono tante le possibilità tante varianti sempre tachinardi per esempio dice si aspetta una sorta di fotocopia di juve celsi nel senso che diciamo così anche il celsi come l'inter va in difficoltà si deve trovare delle squadre chiuse e quindi la juventus si chiuderebbe diciamo un po a riccio per poter ripartire in contropiede e questo manderebbe in sofferenza lì grazie è una partita importante è una partita bella bella mi piace di essere presente a questa partita avevo visto l'andata ero assistere all'andata a san siro diciamo un po per i fatti miei diciamocelo così domenica sarò lavorativamente attivo per sport media se naturalmente anche per pressing e tutti i nostri appuntamenti naturalmente anche per il canale mi farà un certo effetto anche tornare a fare il video la diretta con facebook nell'intervallo dallo stadio e mi farà effetto fare il video post partita sempre da lì prima di andare a fare le interviste o subito dopo dipenderà ovviamente la priorità è sport media se sia chiaro va bene detto questo insomma e se dovessi io rispondere a una domanda di bala si di bala no è come spondate la porta aperta di dire di bala si di bala si e in un tridente si di bala con blavice morata sì sì perché comunque questa è la partita all in della juventus secondo me no è la partita non dico dico una brutta parola per la è come se fosse una finale bruttissima parola soprattutto il campo europeo perché da dire il campo italiano non è andata poi così male no però qua quale squadra ti ha dato le maggiori garanzie la maggior produttività a livello di azioni in questi questi in questo periodo quando c'erano quelle poche partite in cui ha giocato assieme perché poi di bala si è fatto male di bala vlaovic e morata e quindi io ritengo che questa potrebbe essere la soluzione ideale questa potrebbe essere la soluzione ideale se dovesse optare per un attacco a 2 un 3-5-2 un 4-4-2 allora è chiaro che ovviamente uno dei due uno dei tre sarebbe sacrificato uno dei due tra di bala e morata ovviamente che blavice sarà sicuramente di questa partita in un 3-5-2 ci potrebbe essere zaccaria dall'inizio quindi un centrocampo rimpolpato anche se poi sugli esterni bisogna vedere quale quali sarebbero le scelte di quasi milano allegri ricordiamo che rientra nella disponibilità piena anche bernardeschi e la difesa 3 potrebbe essere un danilo del ict chiellini la butto lì per ipotesi anche perché secondo me bonucci non ce la fa non ce la fa giocato troppo poco in questi giorni non può aver recuperato per sostenere un impegno così importante magari ci sarà qualche minuto sempre che venga convocato ma non ci conterei più di tanto però ragazzi è una partita che con più ci si avvicina e con più la senti quello che ti da juve inter credo che non te lo dia nessun'altra sfida poi parleremo magari anche meglio di tutti questi aspetti no perché poi dopo si va a ricadere la no nel 2006 quello che ti da juve ancora prima di calciopoli eccetera era juve inter la classica adesso che si sta avvicinando questo appuntamento e si sente dell'aria si sente parecchio si sente parecchio poi ci sarà lo stadio pieno un'atmosfera degli anni passati dei vecchi tempi sarà un bel appuntamento sarà da vivere tutto dal primo all'ultimo minuto ma con una certa con un certo pathos no un certo pathos innegabile e poi vedremo come andrà a finire è un altro bello un altro bel dentro fuori è questo ma ci 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 entreremo in queste questi discorsi ci entreremo magari domani vi do appuntamento naturalmente a domani dopo la conferenza stampa di massimino allegri che fallerà le 14 cercheremo speri speriamo di capire come sarà l'attacco un po anche tutto il resto iscrivetevi al canale ecco mi lascio con questa domanda fareste il tridente domani io ho già risposto mi sembra di essere stato chiaro lo ribadisco sì iscrivetevi al canale fatemi sapere ciao 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 ciao